Salve a tutti, sono Gianfranco Marini e questo video vuole essere una guida per l'utilizzo nella didattica e nell'aggiornamento di due importanti media, l'audio e il video. Il titolo, non solo audio e video, è basato sul principio che non è sufficiente pubblicare online un file audio o un video. Si tratta invece di manipolare, elaborare con gli strumenti offerti dalle tecnologie digitali, audio e video, per inserirli in un ambiente, in un contesto che abbia una valenza formativa, che sia per esempio interattivo, che renda possibile il dialogo con gli studenti, che renda possibile gli approfondimenti, altrimenti non si fa altro che replicare la didattica trasmissiva, che ha per carità la sua ragione d'essere, trasferendola dall'ambito fisico della presenza all'ambito virtuale della didattica online, mentre invece grazie alle tecnologie digitali si può fare molto di più che semplicemente pubblicare un video. Ho realizzato la mappa con Mindomo, la mappa si è formata da più di 500 elementi che rimandano a risorse, testi, documenti, videotutorial, guide, articoli e via dicendo, che hanno come argomento appunto l'audio e il video. È una mappa che ho pensato e strutturato come una mappa di autoapprendimento, cioè è possibile, a seconda delle esigenze di ciascuno di voi, costruire all'interno di questa mappa diversi percorsi di apprendimento e aggiornamento a seconda, come dicevo appunto, delle vostre esigenze. Vi illustro brevissimamente i vari rami della mappa, questo che vedete è un nodo che fa riferimento a quelle che sono i vari obiettivi e che con l'uso di video e degli audio si possono conseguire, per cui appunto si va dalla strategia di Lisbona fino alle più recenti indicazioni nazionali, a nuovi scenari, le competenze digitali educative, diciamo la media education e così via. E quindi l'uso degli audio e dei video rientra in queste tassonomie, in queste classificazioni degli obiettivi europei, italiani eccetera in ambito formativo. Poi abbiamo un ramo che è il più importante, non solo video, per quanto riguarda i video, suddiviso in altri rami in cui sono presi in esame le varie tipologie di video, ma quello che volevo dirvi, poi lo potrete esplorare con comodità, prendendo come esempio i video quiz e i video interattivi, come vedete abbiamo varie applicazioni, per ogni applicazione ho cercato di inserire una recensione che spiega cos'è quell'applicazione, dei video tutorial e quando è possibile anche degli esempi. Basta cliccare, vedete, su questo quadratino, su questa icona e si va al video tutorial, all'articolo, alla risorsa segnalata. Bene, poi abbiamo, vi illustro quest'altro ramo della mappa, sono 152 link a risorse, le ho chiamate applicazioni di supporto, cioè non servono propriamente a realizzare dei video, dei video interattivi, ma sono applicazioni o ambienti necessari per supportare l'attività didattica, modalità Blending Learning, Cliped Classroom, per esempio applicazioni per discutere ideale, ideare, collaborare, Padret e Linoit e così via. Anche qui trovate il link ai video tutorial, alle recensioni, agli esempi, eccetera. vedete questa icona con le tre linee parallele orizzontali, se posizionate il mouse su questa icona comparirà una breve descrizione che ho inserito in modo che voi possiate avere un'idea di cosa trovate qui dentro cliccando questo link. Altro ramo di questa mappa, ce ne sono diversi riferimenti teorici, ecco l'altro ramo su cui volevo attirare la vostra attenzione, quello dedicato all'audio, come utilizzare l'audio, le registrazioni audio, qui abbiamo tanti esempi, il podcast, la web radio, applicazioni per realizzare web radio come Podomatic e Spreaker e vedete anche in questo caso che cos'è una recensione, guida e tutorial e esempi in modo che possiate avere un'idea del risultato che si può raggiungere e decidere per esempio di provarci adattandolo alle vostre esigenze. Naturalmente questa è una mappa in costante fase di aggiornamento e di elaborazione, in realtà l'ho fatta qualche anno fa, man mano aggiungo, tollo, rimescolo, comunque il link è sempre quello, lo metterò nella descrizione, nel box descrittivo del video dopo averlo pubblicato su YouTube. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.